Ieri tu giornalmente l'hai introdotto, hai fatto vedere giornali di sinistra che si lamentano che ci sono troppi immigrati e anche oggi... No, ma non solo, si lamentano che il governo Meloni non metta in pratica quanto aveva promesso in campagna elettorale, cioè il blocco navale e l'affondamento delle navi dell'ONG, questo è veramente il massimo dell'ipocrisia. Oggi lo fa Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera dicendo, ah le promesse di prima dove sono finite, sulla stampa centomila sbarchi, guardate tutti arrabbiati e allora a me viene da dire una cosa, io comincio a vedere tanti sindaci in giro per l'Italia e anche qualche governatore di regione, ovviamente Stefano Bonaccini tra gli altri, che si lamentano dicendo ci sono troppi stranieri, ci sono troppi arrivi, ora ricordo che Stefano Bonaccini per esempio è il governatore di una regione che non ha aderito allo stato di emergenza per l'immigrazione, c'è quello che ti permette di avere un po' di sgravi, di velocizzare le procedure. Io posso capire che sia un problema, per me è un problema se arrivano centomila persone in un anno, però forse io che ho sempre combattuto l'immigrazione di massa ho diritto di lamentarmi, non chi l'ha sempre incentivata. Oggi ne parliamo, caro Stefano, con un amministratore locale che in questi giorni ha alzato un po' la voce in maniera anche giustificata, perché lui qualche ragione ce l'ha e quindi vogliamo sentire che cosa ha da dire e lo fa non da sinistra, cosa che sarebbe più sospetta, perché io sospetto che in questi giorni qualcuno faccia un po' il furbetto proprio per mettere in difficoltà il governo su questo tema, ma lo fa da esponente di Forza Italia. Dovremmo avere in collegamento Daniele Silvetti che è il sindaco di Ancona, buongiorno sindaco. Buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Sindaco, io ho letto, leggo anche oggi sulla stampa le sue parole, dice che noi abbiamo preso un po' di immigranti, mi pare che siano 106 quelli che sono arrivati ieri mattina a bordo della nave Humanity One e lei ha detto che noi abbiamo avuto tre navi in due mesi e cominciano a essere piuttosto impegnative dal punto di vista dell'assistenza e della possibilità di trovare gli spazi giusti, ma adesso quanti immigrati vi hanno mandato, quanti ne state gestendo? Beh, dicevo appunto, sono tre navi in due mesi, sono oltre 400 immigrati, di cui il 20% minori e il sindaco per loro è proprio il primo responsabile, il primo custode e questo chiaramente ha messo sotto pressione le strutture sociosanitarie della nostra città e peraltro poi la ridistribuzione riguarda sempre e soltanto la regione mare. Per noi nulla ovviamente il contrario sull'aspetto dell'accoglienza e della tutela del minore e assolutamente del ricovero per coloro che fuggono da dissesti, disastri o situazioni di pericolo, fermo restando che però poi c'è un fatto tecnico che è un fatto che un sindaco deve assolutamente sottolineare agli enti preposti e sovraordinati che in realtà c'è una difficoltà non di poco conto che le strutture sociosanitarie riscontrano il collocamento e soprattutto nella gestione. Cioè il vostro problema qual è per capire? Che voi vorreste più soldi, più fondi? No, noi abbiamo queste strutture che ci servono per gestire l'ordinario, lo straordinario ovviamente non fa che appesantire in modo considerevole quelle che sono ovviamente le capacità di gestione delle nostre strutture e siccome, ripeto, non ci siamo sottratti in questi tre mesi però facciamo capire che in realtà Ancona che è una città del medio adriatico in questo momento non riesce più a sopportare, a sopportare ovviamente questo tipo di pressione che ci vede in primissima fila, quindi ecco questo è il richiamo che ho fatto anche al Presidente della Regione. Perché prima non vi arrivavano, adesso è cambiata la strategia del Viminale che li mette in varie zone d'Italia, diciamo non solo in Sicilia, in Calabria dove arrivavano all'inizio e quindi voi finite sotto pressione, però io le chiedo una cosa, perché io ho letto anche il sindaco di Padova per esempio Giordani che si arrabbia, Bonaccini l'abbiamo detto prima, altri sindaci toscani, i suoi colleghi, però mi permetta, io quando leggo queste cose qua un po' mi arrabbio perché sono i sindaci che fanno parte, sono esponenti di partiti che l'immigrazione l'hanno sempre incentivata, che hanno sempre detto apriamo, bisogna accogliere, bisogna fare e adesso che c'è un altro governo, tra l'altro stanno arrivando meno i migranti rispetto per esempio a 2016-2017, ne stanno arrivando tantissimi e io non è che sia contento, secondo me bisognerebbe fare di più, ma se me lo dice lei che sta in Forza Italia, posso capire, poi lei lo fa da amministratore, non da politico in questo caso, però i suoi colleghi che si lamentano dopo aver detto per anni e viva l'accoglienza, faccio un esempio, il sindaco Giordani nella sua città fa tanti begli eventi sull'importanza dell'immigrazione, sulla valorizzazione dell'accoglienza e poi dopo mi viene a lamentarti perché c'hai troppi immigrati, qualcosa non torna, mi perdono. Sicuramente c'è un cortocircuito da questo punto di vista, dal punto di vista politico, io non entro in merito alle scelte che fanno i colleghi di altre realtà locali, però noi quest'anno abbiamo dovuto annunciare e cominciare a far applicare, faccio un esempio, l'ordinanza anti bivacchi perché poi ovviamente vanno gestiti non soltanto in fase di sbarco, ma in fase poi nei mesi successivi e quest'anno abbiamo avuto non pochi problemi a gestire le zone del centro storico peraltro, quindi se le strutture ovviamente sono sature, poi c'è una situazione di finire fuori controllo ovviamente al centro della città e questa è una città che comunque vuole implementare il suo turismo, vuole sicuramente essere l'ospitale con tutti, ha chiaramente dei numeri da mantenere, è sicuramente uno standard di qualità da capoluogo che vuole mantenere e questa è una situazione che sicuramente non agevola questo tipo di missione che ci siamo dati e questo quindi la dice lunga sul fatto, sì. Ma dico, vi danno problemi, poi avete problemi anche sul territorio, di sicurezza, di decoro, diciamo così. Abbiamo fatto, mi sembra, nell'ultimo mese tre tavoli tecnici, tre tavoli provinciali di pubblica sicurezza proprio per questo tipo di motivo, con il prefetto e il questore, quindi questo la dice lunga sul fatto che c'è un'attenzione particolare di fronte a un fenomeno che per la città di Ancona è totalmente nuovo. Ecco, è questa cosa, vede, io non la voglio spingere a fare polemica con i suoi colleghi, però io, ripeto, la capisco, però sono anni che noi, che io almeno, il mio giornale, altri colleghi, insomma, denunciamo queste cose, diciamo guardate che l'immigrazione di massa è un problema, perché poi noi lo vediamo a Milano, io sto a Milano e ogni mattina, santo giorno, vediamo quali sono le conseguenze a livello di disagio per la popolazione e anche per queste persone che sono qui e vivono in mezzo alla strada tante volte. Allora, sentire, io non capisco quale sia la soluzione proposta da sinistra, cioè se quando si faceva i blocchi navali Salvini era disumano, era cattivo, razzista e non andava bene, se chiudiamo i porti non va bene, se diciamo che gli immigrati delinquono non va bene, allora qual è la soluzione? Perché poi se succede che c'è una crisi come quella che c'è in Tunisia e ne arrivano 100 mila e dopo però le stesse persone che dicevano no, ma bisogna fare, accogliere, se no si è razzisti, si lamentano. Capisce che io non saprei più cosa fare a un certo punto, cioè che deve fare il governo? Deve respingerli? Ma dunque, sicuramente ha fugato ogni dubbio sul fatto che non c'è nessun tipo di preconcetto di impostazione ideologica, sull'accoglienza non c'è destra o sinistra, insomma si tende la mano a chi è bisognoso. Poi c'è l'aspetto invece pratico e politico, che ovviamente va gestito, sono i rapporti diplomatici che sicuramente non funzionano con alcuni paesi evidentemente e poi c'è l'aspetto di frontiera, che è quello che vede secondo me la necessità di aprire e accendere un focus veramente autentico sulle cosiddette organizzioni non governative, quelle associazioni che in realtà, commentavamo con alcuni funzionari lo sbarco dell'Humanity One e ci chiedevamo chi avesse pagato i 106 pasti all'ultimo sbarco che c'è stato per una settimana di navigazione. Cioè un'organizzazione impressionante, una nave che costa oltre 9 mila euro al giorno di mantenimento, insomma io farei un focus su queste organizzazioni che sono poi i primi vettori, che peraltro poi hanno sicuramente dei ritorni, perché mantenere delle navi di quel genere, di quella stazza, di quella capacità, con tutto quel personale, io mi chiedo sinceramente dove provengono effettivamente i fondi, non sono soltanto donazioni, qui c'è un circuito che ha un certo tipo di profitto. Ma sai che poi sono state fatte delle indagini sulle NG, un po' perché non c'erano gli strumenti, un po' perché è difficile provare il legame con i trafficanti, alcune sono state archiviate, altre sono finite niente, altre ancora sono ancora in ballo, vedremo che cosa succederà. Lei sospetta che ci sia, che prendano dei soldi per portarvi gli stranieri? Beh è evidente che ci sono degli strumenti, un'organizzazione impressionante, ci sono delle interi navi, cioè navi di un certo tipo di peso, di tonnellaggio, dimensioni, io ho visto delle navi che sono sbarcate da Ancona, impressionanti, ripeto, noi abbiamo avuto di tour una navi che ne ha portati più di 200 immigrati e sostenere chiaramente questo tipo di peso, ritengo che sia un costo notevole, ecco perché poi vediamo navi con personale 15-20 unità, più tutto il personale volontario, insomma, sono i primi vettori, sono proprio queste organizzazioni. Tanti suoi colleghi politici, ricordo Del Rio che è stato anche ministro, poi sindaco di Reggio Emilia, ricordo Frattoianni, ricordo Faraone, su queste navi ci salivano a fare la passerella quando si chiudevano i porti, no? E di nuovo, e ritorniamo sempre lì. Io a lei mi sento di dar ragione perché lei dice io ne ho presi 400, sono un sacco, tra l'altro i minori sono un bel problema, mi pare di capire diffuso per tanti, no? E spesso ve ne trovate anche così che arrivano a suonarvi senza capire da dove siano arrivati, almeno questo dicono alcuni sindaci. Dopodiché però allora ce la prendiamo con chi andava su queste navi a fare propaganda, non con quelli che hanno proposto il blocco navale e tutti gli dicevano non si può fare. Sono stati incentivati quel tipo di filiere, sono stati incentivati con le passerelle, sono stati incentivati sicuramente con un approccio propagandistico e questo è un risultato, finché ovviamente vengono incentivate quelle forme di trasporto, legittimando ovviamente questo tipo di concetto, è chiaro che coloro che fuggono a vari motivi da queste nazioni a questi paesi che realmente in difficoltà, ovviamente hanno facilitato ogni tipo di soluzione. Poi dopo io li vedo, peraltro ieri sono arrivati tutti senza scarpe, però erano tutti delle tute insomma ben confezionate, non erano denutriti, erano comunque persone che avevano operato tutto il telefonino, quindi ci sono delle contraddizioni in queste situazioni e questo sicuramente il focus che è stato fatto non è stato sufficientemente approfondito e sicuramente è andato così a fondo. Ma io so che l'Anci, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni, nei giorni scorsi spesso ho fatto sentire la sua voce, ha detto che bisogna che facciamo dei vertici col governo, ne parliamo, però mi sembra che anche loro puntino. Non ho capito bene esattamente che cosa si aspettano i suoi colleghi, si aspettano di non avere più migranti, si aspettano di avere più fondi rispetto ai 34 Euro al giorno, si aspettano che cosa secondo lei? Per certi colleghi forse è anche più facile, perché chiaramente ne fanno una battaglia politica, poi devono rispondere ai cittadini perché chiaramente hanno le loro aspettative e poi purtroppo si gioca un pochino troppo a fare la partita a destra-sinistra, quindi si perde di vista l'oggetto vero per fare polemica politica. Quando in realtà, peraltro, sineci come me, che sono di centro-destra, non è che negano l'accoglienza o il concetto autentico di inclusione o di aiuto umanitario. Dall'altra però c'è un fatto assolutamente stringente che è quello della insufficienza degli strumenti, della saturazione degli spazi, che comunque sono un problema oggettivo, sono un problema trasversale, che non guarda la destra o la sinistra. Anche io vorrei capire un po' qualcosa di più di cosa vuole fare l'Anci, sinceramente, non mi è ben chiaro. Perché mi sembra che si fermino un po' la polemica politica, dico la verità, Sindaco, perché se tu, di nuovo, se vado a riprendere le parole di De Caro, che è il Presidente dell'Anci, Sindaco di Bari, e di altri, quelle che dicono oggi, quelle che dicevano nel 2018 sembrano due persone diverse. Oggi dicono ci sono troppi sbarchi, nel 2018 dicevano Salvini razzista. Ecco, è questo il cortocircuito famoso. Quando chiaramente la questione perde di vista gli elementi oggettivi, quelli che in realtà un amministratore deve tenere ben presenti, insomma, dall'inizio alla fine, e oggi si vuole fare soltanto campagna elettorale, quindi questo è evidente che non aiuta la soluzione del problema. Io chiederei un tavolo sicuramente col governo permanente per quello che è la gestione, ovviamente, di questi flussi. Ci sono flussi che chiaramente o meno interessano tutti. Ecco, ripeto, ancora una città del medio Adriatico, sede di una importante autorità di sistema portuale, poi capite che in questo momento la difficoltà è, rispetto, trasversale. Quindi i toni sono quelli che sono. Io ho parlato ieri con qualche sottosegretario, con quei rapporti più diretti, chiaramente ho spiegato la situazione, ma poi, insomma, il governo si dimostra con le buone azioni, soprattutto con chiarezza. È chiaro che noi, per quanto ci riguarda, siamo a disposizione nel limite del possibile, non all'infinito. Cosa le ha detto il governo? Che le hanno detto questi sottosegretari, che deve avere pazienza? Che devo pazientare, chiaramente, perché hanno ben presente la situazione e che, ovviamente, la soluzione o comunque una concertazione maggiore con gli sindaci verrà fatta prossimamente, auspicabilmente a fine mese, soltanto che, se continuano chiaramente, ad esempio, nel mio caso, a vedere assegnata Ancona come destinazione ultima, perché nell'ultimo mese sono legate due navi, solo nell'ultimo mese, quindi parliamo di 300 unità soltanto nel mese di, a metà fra luglio e agosto, voi capite che noi qui rischiamo veramente di andare in default per quanto riguarda non solo gli spazi, il personale, peraltro nel mese più critico, insomma, ripeto, questa è un'area, la riviera del Conero, che ha una sua ispirata vocazione turistica, insomma, c'è dell'economia che chiaramente continua a voler crescere, però ecco, questa situazione mette sotto pressione le strutture pubbliche, in modo non così sottile.